Allora la crisi è aperta, è ufficiale, per taluni è troppo presto, invece noi pensiamo che sia troppo tardi quasi, perché sin dall'inizio di questa esperienza governativa abbiamo sempre sottolineato che due anime in contraddizione, due anime differenti non avrebbero potuto tenere insieme il Paese e soprattutto non avrebbero potuto fare riforme efficaci ed efficienti per il Paese e per amore dell'interesse nazionale. Comunque ormai ci siamo, per Fratelli d'Italia è necessario andare al voto il prima possibile senza giochi di palazzo, senza inciuci e senza tentennamenti, perché noi vogliamo che siano i cittadini finalmente a scegliere un governo e non un governo frutto di un accordo di palazzo, ma un governo scelto dai cittadini, votato dai cittadini e potrebbe essere un governo sovranista finalmente, un governo forte, coeso, in grado di durare cinque anni e in grado di fare tutte le riforme di cui questo Paese ha bisogno. Un altro governo è possibile, è possibile l'alleanza Fratelli d'Italia e Lega perché c'è compatibilità, però attenzione, lo diciamo chiaramente, le alleanze vanno fatte prima del voto e non dopo, quindi un altro governo è possibile, l'alleanza è possibile.